Inizia il conto alla rovescia per le elezioni regionali. Domenica 20 e lunedì 21 settembre i marchigiani saranno chiamati alle urne per scegliere il proprio governatore ed i consiglieri. Per l'occasione su Fanotv ci sarà in diretta una maratone elettorale che, a partire dalle ore 16, aggiornerà i telespettatori con i dati nel percentuale in tempo reale e sull'andamento delle elezioni. Oggi, a poche ore dall'inizio delle votazioni, i candidati delle varie liste hanno espresso un ultimo appello al voto. Per il Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri, candidata consigliere regionale a sostegno di Mercorelli. Vi invito a votare Movimento 5 Stelle domenica e lunedì prossimo, perché se dovessimo arrivare a governare la nostra regione sapete che lo faremo solo ed unicamente per difendere i diritti dei cittadini marchigiani. E invece, se dovessimo fare opposizione, sapete perfettamente che siamo in grado di fare una ottima opposizione. L'abbiamo dimostrato a livello nazionale, a livello regionale e anche nei singoli comuni. Io stessa, per esempio, faccio opposizione a questa amministrazione da ben due mandati. E quindi la nostra storia parla per noi e vi chiedo di avere fiducia, soprattutto perché siamo l'unica forza politica che quello che dice, cerca e spesso riesce a realizzarlo. Parlo, per esempio, della difesa dei nostri ospedali pubblici, della lotta alla privatizzazione della sanità, alla difesa dei piccoli ospedali dell'entroterra. Voi sapete perfettamente che cinque anni fa tutti parlavano di ospedale unico, mentre la nostra era l'unica voce contraria alla realizzazione di questa grande struttura, utilizzando addirittura il project financing. Ecco, adesso tutti dicono le nostre stesse cose, parlano di sanità pubblica e di prossimità, però dovete badare bene che le parole che dicono non corrispondono ai fatti. Noi vi assicuriamo che ci batteremo perché i nostri diritti siano difesi. Un'altra tematica di cui parlano tutti è la difesa dell'ambiente, che è una delle cinque stelle del movimento con cui siamo nati. Quindi anche in questo, in tempi non sospetti, il Movimento 5 Stelle si è contraddistinto e secondo noi la difesa dell'ambiente deve essere associata a un'idea di sviluppo economico. Quindi grande spazio all'economia blu, all'economia verde e soprattutto trovare il modo di dare lavoro ai giovani che hanno bisogno, soprattutto per uscire da questa crisi economica post-Covid. Per questo e per tanti altri motivi, cari concittadini, io vi invito a votare il Movimento 5 Stelle barrando il nostro simbolo che troverete sulla scheda elettorale. Bon voto e che sia un voto informato. Per il centro-sinistra intervengono Federico Talè e Renato Claudio Minardi, candidati a consiglieri regionali e a sostegno di Maurizio Mangialardi. Domenica e lunedì è importante andare a votare. Abbiamo l'occasione di dare fiducia a chi rappresenta questo territorio, chi lo conosce e chi l'ha sempre ascoltato, chi sa reagire con grande determinazione nella risoluzione dei problemi della nostra regione. Scegli una proposta politica seria e concreta. Sostieni una persona decisa, un bravo politico, un amministratore capace. Vota Maurizio Mangialardi barrando il simbolo di Italia Viva. In tutte le marche c'è tanta voglia di ripartire e guardare con fiducia al domani. Nelle prossime ore si decide il futuro della nostra regione. Occorrono capacità di governo, visione e grande sensibilità per un progetto che non escluda nessuno. Queste sono le qualità di Maurizio Mangialardi. Diamogli fiducia e votiamo la coalizione del centro-sinistra. Ed infine per il centro-destra l'appello al voto di Francesco Baldelli, Mirco Carloni e Davide Del Vecchio, tutti candidati a consiglieri regionali a sostegno di Acquaroli. È necessario procedere diritti al cambiamento in una regione, in una provincia, nelle quali il PD ha umiliato i cittadini distruggendo la sanità, abbandonando le infrastrutture e bloccando lo sviluppo. Per questi motivi è necessario garantire il cambiamento votando Fratelli d'Italia. Il nostro impegno sarà quello di procedere diritti verso la giusta direzione, quella della tutela dei diritti dei cittadini. Per questo noi siamo pronti a batterci in consiglio regionale. Quello di domenica è un voto davvero importante. Si celebrerà la democrazia. I cittadini potranno giudicare la classe dirigente e scegliere i propri rappresentanti. Quello che io vi chiedo oggi è di affidarvi al cambiamento, di avere fiducia e non paura del cambiamento, ma vi chiedo anche che questo cambiamento non sia semplicemente una parola generica, sia un cambiamento in mano a chi ha esperienza, competenza, che ha maturato quelle capacità per poter governare meglio e diversamente da come è stato fatto in questi anni. Siamo ad una svolta storica nelle Marche. L'Udc Popolari Marche, lo scudo crociato, sarà determinante per la vittoria del centrodestra. Porteremo nella giunta regionale e nel consiglio regionale uomini e donne che saranno la voce dei cristiani democratici, dei cattolici, dei liberali e daranno la svolta alla regione che da 30 anni aspetta.